salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi porto sul canale un drone low cost ma che finalmente ha delle caratteristiche davvero importanti probabilmente avete già visto delle recensioni su altri canali perché ce ne sono davvero tante alla fine anch'io mi sono convinto a provarlo perché è veramente un drone secondo me con caratteristiche uniche nella sua fascia di prezzo è un drone che attualmente vi lascio il link in descrizione costa intorno ai 160 euro una cifra del genere su tomtop vi lascio il link in descrizione poi se recupero dei coupon sconto vi li metto nel mio canale telegram offerte quindi il prezzo probabilmente scenderà ancora ma comunque il prezzo che attualmente è in offerta su tomtop è di circa 160 euro il drone l'SJRC F11 Pro un drone che ha un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi ma con una stabilizzazione che sembra davvero davvero ottima ovviamente tutto quello che vi sto dicendo e per quello che anch'io ho visto su altri canali ma finché non lo provo non ci sbatto il naso di mio ovviamente tutto quello che vi sto dicendo e per quello che viene dichiarato dall'azienda per quello che comunque ho visto su altri canali su altre recensioni di altri youtuber ma però io ci tengo a testare e provare di mio sulla mia pelle se un prodotto merita davvero l'attenzione che sta creando intorno a sé questo F11 Pro allora ragazzi il drone vi arriva in una scatola che è questa quindi scatola di cartone però all'interno la cosa bella che vi arriva con una valigetta adesso andiamo ad aprirlo non ho ancora neanche tolto i sigili del drone quindi è proprio un unboxing e prime impressioni di un drone per come vi arriva a casa allora la scatola come vi ho detto è questa la togliamo abbiamo un sacchetto con una cerniera di plastica e all'interno ragazzi guardate che bella troviamo già la valigetta SJRC quindi vi arriva già con una valigetta per portarvelo in giro quindi secondo me è un qualcosa in più rispetto a tanti altri droni economici e anche ben fatta devo dire e qua troviamo un comparto per portare quello che ci serve cavetti o power bank quindi possiamo mettere quello che vogliamo all'interno di questo scomparto qua troviamo il manuale di istruzioni che viene dato in inglese però vabbè è facile da capire con tutte le figure qua troviamo una spugnetta protettiva e qua troviamo già il drone come vi ho detto il drone è ancora tutto impellicolato non l'ho ancora spellicolato perché ci tenevo appunto a fare un unboxing vero e condividerlo con voi qua abbiamo la scatoletta con le eliche di ricambio che non sono a sgancio rapido abbiamo le viti ma adesso lo analizziamo bene da vicino quindi andiamo a tirare fuori il drone dalla confezione e il controller mettiamo via la valigetta che davvero ben fatta e qua iniziamo ad analizzare quello che è il drone e il radiocomando allora il radiocomando è sicuramente un qualcosa in più rispetto a qualsiasi altro drone economico è fatto secondo me in stile dell'autolivo sia come design che come concetto di aggancio dello smartphone e come display cioè non è uguale però diciamo che hanno preso molto spunto da quello allora andiamo a togliere i gommini protettivi dagli stick e a togliere la pellicola il controller vedete è fatto tutto lucido proprio come quello dell'autolivo anche le levette o meglio gli stick che sono molti simili a quello dell'autolivo e anche il concetto qua del supporto dello smartphone è molto simile a quello dell'autolivo poi andiamo ad analizzare i pulsanti allora qua sul lato destro abbiamo il pulsante della videocamera quindi fare registrazione la rotella per la regolazione del gimbal di qua il pulsante per scattare foto e di qua la rotella per fare lo zoom di quello che stiamo inquadrando poi qua abbiamo il pulsante del return to home qua il pulsante dell'accensione del controller qua il pulsante stop quindi che va un pulsante di emergenza e qua il pulsante per andare a selezionare la velocità che vogliamo avere nel nostro dono perché ci sono varie velocità quindi potremmo andare a selezionare quale delle tre velocità vogliamo utilizzare adesso ve lo vado a accendere per farvi vedere com'è acceso ecco ragazzi vedete che è acceso abbiamo il colore verde gps mode normal mode per il tipo di volo infatti come vi dicevo vedete che se io sposto sport mode camera mode o normal mode in base alla tipologia di utilizzo che dobbiamo fare nel nostro volo qua abbiamo tutte le altre icone che ci interessano se io vado a schiacciare qua vedete che si accende la registrazione video quindi sto utilizzando la registrazione video qua scatto le foto qua faccio il return to home vedete quindi abbiamo tutte le icone che si illuminano in base alla situazione ed è davvero davvero bello perché poi è un'illuminazione colorata quindi molto intuitiva e bella un po l'effetto che ha l'autolivo ovviamente autolivo ce l'ha in display oled qua ce l'abbiamo in un display probabilmente a led però l'impatto visivo secondo me è davvero ben fatto e anche qua abbiamo vedete la carica delle batterie cioè è davvero davvero ben fatto per un drone così economico probabilmente il migliore controller che ho mai visto su un drone economico adesso lo andiamo a spegnere e andiamo a guardare il pezzo forte cioè il drone anche se il radiocomando secondo me è un bel pezzo forte anche lui per un drone di questa fascia di prezzo è anzi devo dire davvero ben fatto allora andiamo a spellicolarlo qua abbiamo la pellicola del gimbal che è fatta praticamente uguale a quelle delle pellicole di dji dal punto di vista dell'etichettamento guardate come è fatto molto simile sia nei colori che nei disegni qua abbiamo il gimbal il copri gimbal e qua abbiamo la pellicola della fotocamera il gimbal come vi ho detto è stabilizzato su due assi non su tre però per quello che si vede ragazzi lo fa davvero davvero bene meglio di altri droni magari stabilizzati economicamente su tre assi e allora andiamo ad aprire qua e togliamo questa pellicola o meglio questo cartoncino poi questo cartoncino via anche lui i bracci sono belli resistenti e le molle tirano tantissimo è una cosa importante per droni comunque con caratteristiche importanti dal punto di vista del peso delle dimensioni che le molle tirino tanto e questo lo fa allora ragazzi guardate il drone esteticamente davvero davvero bello abbiamo le batterie che si ricaricano dalla porta micro usb che abbiamo qua sul fianco come anche per il radiocomando abbiamo la porta micro usb per la ricarica le batterie vengono date per circa 26 minuti di volo ovviamente prendetele per quello che è il minutaggio dichiarato alla fine sarà penso un 20 22 minuti non di più però stiamo sempre parlando di un drone che costa circa 160 euro e ha comunque una qualità video e foto di tutto rispetto allora come dicevo il gimbal è stabilizzato su due assi non su tre il registra in 4k sia le foto che i video una cosa che normalmente i droni economici non fanno perché di solito i droni economici registrano le foto in 4k ma i video in 2,7k poi viene scritto 4k perché comunque la fotocamera è 4k ma i video non sono mai in 4k in questo caso invece sembrerebbe che i video siano appunto in 4k a 30 fps il drone ha un doppio sistema di posizionamento satellitare sia glonass che gps e dal punto di vista del range viene dichiarato 1,5 chilometri di distanza come controllo del radiocomando perché dal radiocomando al drone c'è una comunicazione a 2,4 gigahertz mentre come ritorno video quindi quello che noi andremo a vedere nello smartphone la distanza dichiarata è di 800 metri e questo è normale che il ritorno video è sempre meno di quello che è il range del controllo del radiocomando quindi le distanze dichiarate sono più o meno quelle poi anche queste prendetele un po diciamo con le pinze perché magari è realmente un pochino meno però diciamo l'idea è un po questa di quello che viene dichiarato però poi lo proveremo e vedremo se realmente si avvicina o meno a queste distanze dichiarate una cosa strana che non capisco come mai non sia stata fatta che sotto ragazzi vedete che ha tutto finto nel senso che non ha né sensore a ultrasuono né posizionamento con la telecamera ha sì qua due feritoie per il posizionamento dei sensori che però non ci sono e qua vedete che ha comunque il segno della videocamera ma la videocamera non c'è quindi il posizionamento in hovering e di stabilità viene dato come per quello che veniva poi dato anche dall'apsan zino 1 solo da quello che è il comparto tecnico del drone dell'imu e del gps e del glonass quindi staremo a vedere appunto anche come si comporterà in hovering non avendo comunque questi dispositivi qua sotto io questa cosa non la capisco mai come mai questi droni economici è vero che sono economici quindi potrebbe essere anche quella la motivazione però non penso che la telecamerina qua sotto avrebbe influito così tanto nel prezzo perché sono telecamere poi soprattutto nei droni economici telecamere che aiutano ma sono veramente economiche quindi non capisco come mai questi droni economici che comunque si avvicinano a fare prodotti interessantissimi cadono sempre in certe piccolezze cioè c'è sempre un qualcosa per cui non lo fanno e gli manca sempre quel qualcosa appunto per renderli perfetti nella loro fascia di prezzo comunque perché ovviamente non è che se metteva quella telecamerina lì allora era un Mavic Air 2 no non era lo stesso Mavic Air 2 anche se il peso è più o meno lo stesso però sicuramente era un drone più completo e più affidabile con un comportamento probabilmente ancora migliore e non capisco questo cioè hai fatto un controller secondo me spettacolare bellissimo sia esteticamente che dal punto di vista dei materiali della qualità degli stick cioè comunque un drone economico ma ben ben fatto il controller probabilmente più bello di quello dell'app san zino è sempre che comunque lo smartphone si collega alla rete del drone ovviamente in wifi cioè in wifi il radiocomando si collega al drone e avremo il ritorno video in wifi perché il drone crea la sua rete wifi e le immagini arriveranno tramite il wifi al nostro controller mentre i droni quelli importanti come sapete hanno il cavetto che collega lo smartphone al radiocomando con un cavetto otg che trasporta dati viene comunque trasmesso quello che arriva al radiocomando viene trasmesso allo smartphone attraverso il cavetto ed è una cosa più stabile più sicura più veloce con meno rallentamenti e questa cosa anche questa non la capisco posso capire su un drone da 80 euro 90 euro ma su questi droni che comunque iniziano avere delle caratteristiche importanti e soprattutto dal punto di vista foto e video e che anche comunque del range di distanza cioè comunque sono droni che iniziano a essere belli nella loro fascia di prezzo economica cacchio ma perché non gli metti stoccavoli di cavetto io mi domando e crei sempre questa rete wifi che comunque ha dei limiti e ce li ha davvero importanti soprattutto come vi ho detto in questa tipologia di droni comunque chiusa parentesi delle mie lamentele sui droni economici a cui gli manca sempre qualcosa andiamo avanti a vedere il drone quindi come peso invece questo drone si avvicina al mavic air 2 quindi la fascia in cui va a rientrare come tipologia di peso è quella del mavic air 2 per intenderci allora una cosa che volevo fare visto che oggi un unboxing le prime impressioni era provare a collegare il drone al radiocomando e allo smartphone quindi andiamo accendere il radiocomando andiamo accendere il drone la musichetta ricorda altri droni e allora ragazzi una volta che il drone e radiocomando sono accesi dobbiamo accedere alla rete del drone quindi entreremo in sjf pro vedete la rete creata dal drone aspettiamo che si connette perfetto connesso dopodiché andiamo aprire l'applicazione sjf pro l'applicazione è questa quindi facciamo control e a questo punto vedremo apparire l'immagine ecco qua l'immagine che sta inquadrando il drone in questo momento l'applicazione è semplice ma per quello che si sa funziona davvero davvero bene allora in alto abbiamo il numero di satellite in questo momento ovviamente non ci sono la connessione del radiocomando e la batteria poi con la possibilità di switchare da foto a video che poi sono anche comunque i comandi che abbiamo qua sul controller e poi da questa parte invece abbiamo il decollo automatico quindi cliccando il tasto qua sinistra decollo automatico qua il return to home che abbiamo anche qua nel radiocomando mentre qua abbiamo tutte le funzioni di volo diciamo automatiche chiamole così quindi abbiamo il follow me in due versioni poi abbiamo la possibilità del war cioè la possibilità di utilizzare un visore di quelli economici da 20 euro e pilotare il drone in prima persona per qua abbiamo la possibilità di scattare video e foto con i gesti la possibilità di creare il we point vedete che se io vado qua posso creare un percorso all'interno comunque di questo raggio che ci viene dato quindi non si può creare un percorso gigantesco però è possibile creare un percorso all'interno di questo cerchio che ci viene dato come limite poi andiamo avanti la possibilità di creare effetti video direttamente dall'applicazione come filtri e la possibilità di inserire qua mi ero dimenticato anche la musica all'interno del video che andiamo a creare e poi la possibilità di che fare anche lo zoom vedete che se io sposto la levetta vado a zoomare e tutto anche in maniera bella fluida avete visto come bello fluido il ritorno video nell'immagine in più ovviamente una volta che il drone è decollato dovremmo avere la possibilità anche di fare point of interest cioè quindi girare intorno a un punto di interesse ragazzi davvero il drone è completo se tutte queste cose le fa bene è meglio le principali per quello dei gesti scattare foto e video con i gesti quello vabbè non mi interessa a me particolarmente ma penso un po' a nessuno i droni di questo tipo non sono fatti per quello se però le funzioni diciamo più interessanti come può essere il follow me il point of interest o anche la possibilità di creare il viewpoint dovessero funzionare in maniera decente sicuramente è una cosa interessante poi cliccando i puntini qua a destra potremmo andare impostare vedete la distanza massima che va dal drone quindi 1500 metri l'altitudine massima che è 120 metri quindi potremmo decidere noi quanto vogliamo far salire o meno il drone e return altitude e return to home quindi l'impostazione di quello poi qua abbiamo le informazioni del volo che abbiamo fatto e qua abbiamo le regolazioni vedete del roller del pitch potremmo andare a modificare quello che è il comportamento la sensibilità del controller verso il drone quindi ragazzi l'applicazione l'avete vista è semplice ma ben fatta a tutto quello che serve è messo in maniera davvero super semplice e in più tutte le funzioni e le opzioni le abbiamo anche qua visibili nel nostro controller quindi ragazzi devo dire che il tutto per adesso mi ha davvero davvero entusiasmato link in descrizione di tomtop se volete dargli un'occhiata e soprattutto ragazzi seguitemi sul mio canale terreno offerte dove se mi arrivano dei coupon li li posterò sicuramente quindi in attesa di testarlo perché comunque devo aspettare anche un meteo decente per provarlo perché sono davvero davvero di curioso di vedere quanto a livello video questo drone è in grado di dare nella sua fascia di prezzo quindi davvero davvero curioso di provarlo anch'io come hanno fatto tanti altri youtuber e di vedere se veramente è come dicono tutti gli altri quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale queste mie prime impressioni e queste mie prime considerazioni riguardante la sjrc f11 però vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità dove avevo già fatto vedere che mi era arrivato questo drone quindi porto tante novità tante stampe 3d tipo queste iscrivetevi al mio canale terreno offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao